Vedete lo sviluppo, sono vitelle da 8 mesi a 12 mesi, quindi meno di un anno, però la differenza è notevole nello sviluppo perché anche solo 4 mesi di età contano, come conta moltissimo, perché sono i requisiti di razza, cioè il padre e la madre. Lo sviluppo non è solo legato all'età, ma proprio a un'attitudine genetica. Grazie e con questa... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.